Vitale, Vagnini, Cristone, Radicini. Buongiorno Eugenio, grazie Vitale, Gazzettarello Sport. Il Palermo fino ad adesso è stato grande con le grandi in casa. Pensi che abbia raggiunto quella consapevolezza per poter tentare un colpo di questo tipo anche fuori casa? E poi ti volevo chiedere quanto è cambiato il Genoa tra l'andata e il ritorno. Grazie. Sicuramente per adesso è così. L'altra volta in casa con la Regina ho parlato di un ulteriore step che dovevamo affrontare. E questo in una partita, in uno stadio bellissimo, per me uno dei più belli d'Italia, che crea un'atmosfera unica contro la squadra forte e che penso che per profondità di rosa e qualità dei giocatori sia la più completa della Serie B. Viene da una sconfitta Parma, ma il percorso di Gilardino è stato importante da quando è subentato Blessing. E dunque mi aspetto da parte loro sicuramente dal punto di vista dell'intensità e della qualità una grande partita e per noi è un altro step da superare. Ci siamo preparati al meglio, secondo me, per andare ad affrontarli. Vedremo il campo che risposte darà, ma secondo me siamo pronti a fare una grande partita, una grande prestazione. E spesso sfocia anche in un risultato positivo. Rispetto all'andata hanno cambiato qualcosa sul mercato, ma poco. Gilardino ha variato un po' di sistemi. A volte ha giocato a tre dietro, a volte a quattro. Anche quando gioca a quattro comunque cerca sempre di, o con strotto, o con Badel, di costruire un po' a tre. Ha tanti giocatori bravi tra le linee, come Ramo, Iagliello. Ha una qualità di punte di un straordinario valore. E dunque abbiamo la piena consapevolezza. Insomma ha variato qualcosa dal punto di vista tattico, messo dentro le sue idee. E rimane comunque una squadra forte e importante. La distanza ravvicinata fra una partita e un'altra, considerato che hai finito domenica quasi sera e si gioca di venerdì, ti potrebbe portare a fare delle scelte diverse, considerato che oggi hai parecchie alternative di livello, come chiedevi, per far rifiutare magari gente che ha giocato quasi sempre. E poi la unisco questa, il ricordo di quella partita, quel 4-3, l'unico successo della tua esperienza precedente, ormai annebbiato che però insomma ha avuto un valore in quel momento. Sì, io penso che cinque giorni sono parecchi per preparare una partita. Di consapevolezza le scelte che farò saranno esclusivamente dal punto di vista tecnico-tattico, col fatto che comunque i nuovi, soprattutto alcuni, veramente hanno 6-7 allenamenti con la squadra e di consapevolezza c'è un inserimento, li avete già visti in campo. Le valutazioni e la squadra che vedete in campo sarà una riflessione dal punto di vista prettamente strategico, non legato alla tornazione di qualche giocatore, ma su quello che penso che sia l'undici che inizialmente può darmi più garanzie per come voglio sviluppare la partita e come spesso vi dico, preverà anche strategicamente una lettura sui cinque cambi dentro. Eventualmente questa è una riflessione che si farà nella settimana che porterà tra il Sul-Tirole e poi il Laternale in casa, quando ci sono le tre partite della settimana. Cinque giorni sono sufficienti, la squadra ha recuperato bene, abbiamo lavorato bene con quelli che avevano avuto meno minutaggio nella partita con la Regina e dunque siamo tutti pronti, abili, i 23 che vengono via con me. La partita fu veramente un lampo in quel momento, fu una vittoria veramente costruita con grande carattere, eravamo sotto 3-1 e mancava poco, i ragazzi furono straordinari e questo mi ricorda un po' la partita nostra quest'anno col Perugia dove siamo arrivati al 3-3, quella diventò straordinaria perché addirittura tra i coschi ci portò il gol vittore nei minuti di recupero e rimane rammarico che poteva essere una storia in quel momento di un certo tipo ma magari non sarei qui adesso e dunque bisogna accettare anche quello che la vita ti mette davanti e quella scelta che feci in quel momento, ma quella fu sicuramente una bella serata che speriamo di poter rivivere. Buongiorno, Tullio Filippo e Repubblica, sono qui. Rispetto alla crescita di risultati e la posizione attuale in classifica sta facendo crescere in questi giorni sempre di più l'entusiasmo in città. Voi come state vivendo questo anche alla luce del fatto che adesso ci sono queste e tante partite importanti, rispetto a questa invece forse il Genoa avrà qualche pressione in più e il Palermo potrà andare a giocare tra virgolette, sfruttare il fatto di una maggiore, non dico leggerezza mentale che forse la parola può essere travisata, comunque sfruttare proprio questo cioè che la pressione del risultato è più del Genoa, ecco, giocando in casa anche rispetto al momento in cui arriva. Il nostro momento lo stiamo affrontando secondo me, vedo negli occhi dei ragazzi con grande maturità, con grande equilibrio, con grande consapevolezza per quello che vedo, per quello che comunque anche quando parlano con voi trasmettono nelle interviste che fanno. È bellissimo sentire questo entusiasmo che sta crescendo da parte della nostra tifoseria è stato bellissimo vedere 25.000 spettatori che ci hanno spinto e come ho detto noi cerchiamo ogni giorno di meritarci questo sostegno con la piena consapevolezza che poi i protagonisti sono i nostri giocatori e attraverso le loro prestazioni, la loro energia, le loro qualità possono spingerci sempre più in alto e come spesso vi dico con un obiettivo che è fare un grande allenamento nel quotidiano per preparare al meglio la partita successiva e con questo spirito abbiamo lavorato questa settimana e ci siamo preparati al Genoa. Rispetto alla pressione è fisiologico che il Genoa sia la squadra che fra virgolette è deputata a dover vincere il campionato che questo comporti dalle pressioni ma hanno costruito una rosa con giocatori di grande personalità guardate solo il centrocampo che i giocatori ha gli attaccanti, i difensori e di consapevolezza sono pronti e quando parlo di profondità di rosa e qualità di rosa hanno anche una struttura mentale una capacità di reggere determinate situazioni dunque da questo punto di vista come sempre affronteremo una squadra preparata e noi per me è sempre importante il risultato di conseguenza c'è sempre pressione quando c'è una partita e si va in campo per cercare di portare a casa sempre il massimo possibile Radicini e poi per l'interno tutto il mondo Capone e Mastro Buongiorno mister, Massimiliano Radicini giornale di Sicilia e Italpress sarò un po' più diretto dai miei colleghi quanto la stuzzica l'idea di lanciare dal primo minuto Verre e Tutino e poi un'altra considerazione è sbagliato pensare che questa gara col Genoa può essere un banco di prova per misurare quali sono le reali ambizioni in questo campionato del Palermo? Sono due giocatori importanti inutile dirlo l'avete visto che da quando sono arrivati addirittura Valerio l'ho messo in campo e non si era mai allenato con noi ad Ascoli a fine primo tempo l'ho messo dentro è un giocatore che ha un'attitudine diversa e caratteristiche diverse rispetto ai centrocampisti che abbiamo in Rosa e sicuramente come dico ai ragazzi lo dico anche voi quando dico che ho tanti titolari e ho allargato il campo titolari voleva dire questo è sicuramente un'opzione che può partire dall'inizio come può partire Gennaro anche se ha avuto la settimana scorsa quei due o tre giorni diciamo prima della partita con la regina che ha avuto febbre ma devo dire che a parte i 20 minuti i 25 di partita che ha fatto molto bene questa settimana ha lavorato con grande intensità applicazione e lo vedo crescere anche dal punto di vista della continuità e di conseguenza sono sempre due opzioni importanti che possono partire dall'inizio o che possono essere altrettanto importanti a partita in corso e l'altra domanda se me la ricordi se è sbagliato dire che questa partita può essere un manco di prova per ritorare nel senso del Palermo magari per cambiare ma è una partita sicuramente importante è uno step importante che dobbiamo andare a affrontare per capire ulteriormente i nostri passaggi di crescita e capire come ne usciremo da questa partita ma quando mancano tre mesi e mezzo alla fine del campionato quando poi ne mancano altre 14 veramente può succedere di tutto e se andate a vedervi io ne ho una piena coscienza l'anno scorso noi alla terza e ultima partita pareggiamo con la Spal che fa un gol a due minuti al tempo di recupero sembrava impossibile per noi ormai andare in Serie A direttamente la partita successiva andiamo a Cittadella con il Cittadella fuori i playoff se avessimo vinto quella partita saremmo andati in Serie A direttamente quella partita con la regina in casa perdemmo e questo fa capire che a volte anche nel giro di una settimana varia e cambia tutto i tre punti veramente possono spostare l'inerzia di una classifica sicuramente una partita importante ma ci sarà ancora tanto da fare rispetto a quello che sono le ambizioni che possiamo avere in questo campionato che oggi non sono ancora definite e secondo me quando ne mancheranno sei partite sarà tutto molto più chiaro sul reale obiettivo che noi ma come tante altre squadre non potranno perseguire Buongiorno mister Cettina Pellitteri Azzurra News tornando un attimo alla partita con la regina non possiamo non sottolineare l'ottimo esordio di Simon Graves che si è inserito molto bene con i compagni e ha già mostrato le sue qualità per non parlare poi di Verre che è un fuoriclasse insomma in questa categoria fatta questa premessa le volevo chiedere considerando questo crescente entusiasmo dei tifosi che anche a Genova non faranno mancare il loro apporto considerato questo gruppo sempre più unito e considerato che si è innalzato il livello tecnico della squadra lei ritiene che il Palermo potrà recitare un ruolo da protagonista in questo girone di ritorno grazie Sì Simon è entrato perché l'ho visto bene nei quattro allenamenti che ha svolto con noi e dunque in quel momento ritenevo opportuno che la sua fisicità e la sua struttura potesse dare una mano alla squadra a portare a casa la vittoria e l'è entrato oggettivamente molto bene dove è stato coinvolto ha lavorato bene su Valerio ne ho parlato prima sul discorso delle ambizioni non è che io non voglia sbilanciarmi non voglio dire sono molto attaccato alla realtà e al fatto che le cose si costruiscono essendo concentrati su quello che puoi fare oggi con una visione sicuramente sul futuro ma è importantissimo essere coesi come lo siamo diventati essere concentrati capire quanto è importante ogni sfumatura dentro una partita ho detto ai ragazzi che ultimamente stiamo vincendo negli ultimi dieci minuti di gara e noi spesso andate a vedervi tutte le nostre vittorie sono state con un gol di scarto quanto il confine è sottile tra un pareggio e una vittoria e quel confine lì sottile siamo stati bravi nell'ultimo periodo a spostarlo dalla nostra parte ma esiste e dunque dobbiamo avere questa capacità di spostare sempre quell'equilibrio e quell'inerzia dalla nostra parte lavorandosi particolari e quando i tifori sono contenti e sono entusiasti per noi è sempre un piacere perché si creiamo un clima positivo la nostra responsabilità è quella ogni giorno di alimentarla col comportamento l'atteggiamento e fornendo grandi prestazioni in campo Buongiorno mister Manfredi Maria Tutto il mondo ForzaPalermo.it al di là di come potrà finire questa storia è chiaro che qualcosa è cambiato e sta cambiando di giornata in giornata e francamente lo vediamo anche dal suo sguardo dalla sua voglia in panchina ma anche da una squadra che prende gol e cinque minuti dopo però vuole subito andarne a fare un altro per vincerla mi chiedo allora tutto questo era solo questione di tempo che sarebbe successo e quindi lei già sapeva tutto oppure c'è stato un momento o più momenti in particolare che hanno segnato quella che poi definiamo sempre come la svolta grazie mister Guarda il tempo è sempre un alleato per ogni professionista nel senso che attraverso col tempo se lo utilizzi bene puoi crescere puoi migliorarti puoi trovare degli spunti non penso che ognuno abbia una verità assoluta in tasca a volte ha un'idea la sviluppi spesso mi rendo conto di ripetere la stessa cosa ma capisco che è difficile a volte capirla la ridico la ribadisco dovete pensare a come è nato questo progetto andate a vedere quanti giocatori sono stati in uscita e quanti ne sono entrati in pochissimo tempo è stata una rivoluzione totale globale attraverso la voglia lo spirito questa squadra sta andando oltre quello che in questo momento era l'aspettativa e noi vogliamo spostarla sempre più in là come dicevo prima concentrandoci sul fare bene una cosa alla volta e di conseguenza so che le cose possono cambiare rapidamente ho ormai un'esperienza di un certo tipo e dunque è uno stato mentale chiedersi sempre ogni giorno di dare il meglio per costruire qualcosa di importante questo è stato per noi dall'inizio così per me è stato sempre così ho la capacità di leggere la cosa in profondità capisco lo stato emotivo del tifoso lo comprendo e io devo avere la capacità di avere una visione un po' più ampia di capire dove la squadra come sta la squadra dove può andare la squadra e dove può essere indirizzata e questo è il lavoro che ho fatto e che continuerò a fare da qui alla fine Buongiorno Eugenio Marco Capone Palermo Today due rapide domande la prima ne parlavi anche prima per quanto riguarda la tattica col Parma è partito Giardino con una difesa a tre poi nella seconda frazione di gioco difesa a quattro tu per domani cosa ti aspetti pensi che possa variare anche in corso di gara e poi la seconda Claudio Gomes torna tra i convocati ti chiedo concretamente come sta grazie ok praticamente ovviamente ho visto che ha variato questo tema nell'ultima partita si era orientato più su una difesa a tre poi l'ha cambiata perché ovviamente era sotto e voleva avere un centrocampista più di palleggio e ha tolto un difensore leggo che possono avere anche dal punto di vista numerico qualche defezione e dunque non so quale sarà la scelta ma se mancheranno i difensori probabilmente sarà quasi fisiologico che possa giocare a quattro dietro perché ha pochissime alternative ma comunque abbiamo lavorato su entrambe le cose perché anche quando partono a quattro dietro spesso Ostrotman o Badel vanno a lavorare vicino a un difensore per costruire a tre e dunque variano spesso il tema della costruzione e ci siamo preparati per come andare a prenderli e per come andare a sviluppare la nostra fase di non possesso Claudio sta bene è stato importante anche la settimana che precedeva la regina quei tre o quattro allenamenti che ha fatto con Odio aveva preso consapevolezza e sicurezza visto il problema che aveva avuto la mano a livello condizionale è cresciuto e sicuramente torna a disposizione farò una valutazione se è pronto per partire dall'inizio o giocare un pezzo di gara ma comunque abbiamo recuperato un giocatore molto importante per noi Ciao mister Giovanni Mazzola Gianluca di Marzio.com Volevo chiederti su Girardino è la prima volta che lo affronti da allenatore vi siete affrontati in campo come lo vedi in questa sua nuova carriera e poi vado diretto sul fatto si è parlato di crescita del Palermo eccetera eccetera questo è esattamente il Palermo di Eugenio Corigni al 100% o ancora c'è una percentuale per arrivare alla squadra ideale? Ma Girardino è stato un grandissimo calciatore e devo dire che ha approcciato bene un compito non facile che è quello di allenare il Geno con ambizioni insomma di vincere direttamente il campionato e secondo me è subentrato e sta facendo un ottimo lavoro e gli faccio i complimenti e sicuramente sarà per i prossimi 20 anni un allenatore capace ed importante il Palermo è l'inizio di qualcosa io penso che abbiamo trovato solidità abbiamo trovato identità tattica ma è una base su cui voglio costruire qualcosa sempre di più importante ed è uno stimolo che do a me che do ai miei collaboratori che do ai miei giocatori abbiamo cominciato a lanciare un seme a lanciare un'idea a creare un'identità su questa base che deve essere ancora radicata profondamente voglio sì che la squadra possa sviluppare tante cose meglio di come non le faccia adesso di conseguenza è un momento bello importante ma con la piena consapevolezza che i miglioramenti da fare sono ancora molti buongiorno mister Leandro Ficarla Medical.it tre cose velocissime la prima di Mariano che ovviamente dà un apporto straordinario può fare insomma sia l'estremo del triente il quinto altro la seconda punta ma in fase di finalizzazione siamo stati un po' colucidi ecco le chiedo se magari avete parlato in settimana se ha fatto una sorta di training psicologico e motivazionale come fatto con Brunori quelle caratteristiche di Masciangelo e Aurelio nell'interpretazione del ruolo sono diverse rispetto a Sala e poi se può dirci quanti dubbi quanti ballottaggi si porterà fino all'immediata vigilia o se già in cuor suo ha già deciso l'undici titolare grazie ma rispetto a Dima sapete la stima che ho nel ragazzo è un giocatore che sta dando tanto e che ha avuto veramente un pizzico di sfortuna perché avrebbe potuto avere almeno due o tre gol in più e di conseguenza deve continuare a lavorare come sta facendo è un'arma tattica per noi fondamentale mi dà variabilità su tutto il fronte d'attacco ultimamente sta giocando sul centro-sinistra l'avete visto anche a destra deve continuare a lavorare come sta facendo in certi momenti si lavora su quei particolari senza mettere particolare enfasi e tutto viene in maniera molto naturale sono sicuro che presto anche lui troverà la soddisfazione che merita dal punto di vista della finalizzazione rispetto a Aurelio e Masciangelo un po' l'idea è quella sicuramente poi i giocatori non sono mai uguali ma hanno quella tipologia sicuramente anche Masciangelo ha fatto spesso il quinto dunque è un giocatore che ha attitudine alla spinta Aurelio quando era nella prima del Sassuolo giocava addirittura come punta esterna e poi è stato riciclato 20 metri indietro sta crescendo di fatto un'ottima gestione tecnica un ottimo allungo in fascia deve migliorare certi aspetti ma abbiamo intravisto quelle qualità quando l'abbiamo seguito e a video che abbiamo visto in queste due settimane che sta lavorando con noi dunque sono due ragazzi che ci potranno dare una grande mano e possono essere un alternativo a Marco Sala che devo dire che è cresciuto tanto come rendimento e sta facendo molto molto bene I ballottaggi sinceramente ci penso ed è sempre un aspetto positivo ancora oggi qualcosa ho risolto nella mia testa ma c'è ancora la rifinitura di domani mattina che faremo a Genova e quando poi domani mattina diciamo stanotte deciderò ma poca cosa ancora ma l'idea è già abbastanza definita Salve mister che rafferrà gli sportisti le volevo chiedere innanzitutto se le polemiche sul bar della scorsa partita le hanno un po' fatto riflettere se ne ha parlato con i giocatori se c'è un po' di tensione dal punto di vista arbitrale e poi le volevo chiedere un commento su Soleri volevo sapere se in settimana avete parlato se si è sbloccato se un po' ha riassunto il ruolo di quello che era stato la scorsa stagione come bomber della panchina se il gol l'ha un po' svegliato nonostante lui abbia sempre lavorato benissimo in questi mesi anche questo secondo me io quando ho parlato dell'arbitraggio l'ho fatto solo dopo la partita col Venezia perché in quel momento dove la squadra era subissata di critiche e di cose alcune sicuramente magari giuste alcune un po' meno è stata veramente penalizzata in quella partita vado dopo Perugia in conferenza stampa e mi vengono dette determinate cose vengo dopo una partita dove io parlo di una bella partita dove se c'è una squadra che si deve fra virgolette lamentare per una decisione arbitrale siamo noi rispetto al fatto che probabilmente Maier al ventesimo deve prendere il secondo giallo e capite che diventa tutta un'altra partita e dunque sì posso capire che sulla decisione di Maier poteva tornare indietro ma il calcio di rigore c'era probabilmente c'era l'espulsione di Gagliolo dunque non stiamo parlando di niente e di conseguenza io do sempre grande rispetto ma lo esigo anche e di conseguenza a volte secondo me si va al di là si deve accettare per carità però è giusto ogni tanto allargare i gomiti e far capire che ci siamo anche noi che rispettiamo ma certe cose vanno definite nella maniera corretta e giusta e secondo me a noi non ci ha mai regalato niente nessuno e per farvi un esempio all'ottantesimo di Ascoli Palermo c'è un rigore solare per noi ma solare che poteva cambiare l'inerzia della partita l'ho fatto vedere ai giocatori perché l'atteggiamento è stato quello corretto quando parlo di equilibrio mentale quando parlo che durante gli allenamenti non fisco i falli apposta che bisogna continuare a giocare è quello lo stato mentale non ci deve aspettare mai niente da nessuno tutte le cose vanno conquistate i ragazzi hanno aspettato la decisione del VAR era un rigore solare l'arbitro ha fatto continuare il VAR non ha richiamato l'arbitro dopo tre minuti siamo andati in vantaggio battendo una rimessa laterale veloce quando Buchel cercava un fallo che non c'era quello è lo stato mentale questi sono i particolari che ti spostano l'equilibrio di una partita e su quello lavoriamo il confine come vi dico è molto sottile quando si è reattivo le cose vere e concrete diventi forte e su quello stiamo lavorando e i giocatori comprendono quanto sia significativo e importante lavorare su questi particolari su Soleri anche lui ho parlato con i giocatori tre giorni fa due giorni fa anzi era una riunione che volevo fare prima dalla regina poi complice la febbre di Samuele Massolo complice la febbre di Gennaro non c'era mai la squadra al competo lo rimandate e mi ero segnato delle cose a dire ai giocatori e in uno di questi punti mi ero segnato Soleri perché è un ragazzo che in questo percorso del Palermo era stato di una fondamentale importanza per come si è allenato per come ha giocato i minuti che ho messo a disposizione a lui e girando il foglio ha detto questo l'avevo scritto prima della partita con la regina e questo significa che quando un giocatore si prepara bene poi il campo parla e le soddisfazioni arrivano e dunque il calcio moderno mette nelle condizioni tutti i giocatori della rosa di prepararsi al meglio di essere pronti perché la lamentela è fine a se stessa colpa a qualcuno si può sempre trovare per dare la colpa a chi un allenatore sempre e comunque ma in generale di conseguenza è uno stato mentale è come tutti i prepari e lui è stato fondamentale per la promozione del Palermo l'anno scorso ed è fondamentale per lo spirito che mette e per la qualità che sta mettendo anche con noi Sì Eugenio te ne faccio due devo fartene una ma una me l'hai suggerita adesso tu su Soleri tu hai giocato hai fatto segnare parecchio un giocatore che si chiama Luca Toni pensi che per caratteristiche Soleri possa in qualche modo ripercorrere per caratteristiche le prestazioni di Toni e poi ti volevo dire un'altra cosa hai raccontato di come Brunori sia venuto a cercarti dopo il rigore sbagliato con l'Ascoli hai detto qualcosa a Tutino invece tu dopo il rigore che ha sbagliato grazie allora rispetto alle caratteristiche sicuramente lo ricordo per attitudine per altezza per abilità nel gioco aereo Luca era un giocatore fra virgolette anche sporco tecnicamente è diventato un giocatore di uno straordinario valore perché poi da qui secondo me ha preso una piena consapevolezza che l'ha portato poi in una carriera straordinaria che è diventato campione del mondo ed è un riferimento molto bello dunque uno per migliorare si deve sempre guardare qualcosa di importante e Luca per sole può essere sicuramente un riferimento perché lo ricorda in certe movenze nella capacità nel gioco aereo sul discorso del rigore sapete che il rigore è uno stato emotivo e devo dirvi la verità che Gennaro quando li proviamo li ha sempre battuti in quel modo probabilmente il fatto che Contini lo conoscesse perché hanno giocato insieme a Napoli l'ha un po' destabilizzato li abbiamo riprovato oggi ha cambiato qualcosa ma in certe situazioni è il giocatore che ti deve cercare se ha bisogno di un consiglio come lo ha fatto Matteo in un'altra situazione sicuramente il ragazzo è dispiaciuto perché probabilmente prima vi ho detto che vinciamo sempre con un gol di scarto 5 minuti si rincerve è piaciuto tutto viverli si vede che il nostro momento non permette questo abbiamo vissuto altri 5 minuti di fuoco però insomma è stata un'opportunità mi è piaciuto come è entrato i rigori si possono sbagliare e ci si allena per migliorarci anche sotto questo punto di vista grazie grazie